Buonasera amici di Casali e Borghi in Umbria, ci troviamo a Guadamello, riprendiamo da dove avevamo lasciato, la visita presso i borghi nel comune di Narni, nella bassa Umbria, e siamo sempre in compagnia del nostro amico Bruno. Bruno buonasera, eccoci di nuovo. Allora, riprendiamo il ragionamento. Guadamello, vai da Meli, dicevo che Narni era la città in possesso di Longobardi, da dove invece dalla parte opposta c'erano i Longobardi. Quindi qui era un presidio molto importante per quanto riguardava l'avamposto narnese, a narnese bizantino, più che narnese avverso, i Longobardi, che invece erano nei pressi, erano nella zona di Odrigoli. Ora, però, prima di altre considerazioni, vorrei brevemente di trattenermi, sai su che cosa? Una cosa molto semplice, molto, come dire, banale se vogliamo. Cioè, che cosa facevano? Di che cosa si nutrivano? Qual era l'attività nell'epoca di Trapasso fra il Monte Antico e l'Alto Medioevo? Noi, intanto qui erano, ovviamente, erano successe cose nell'ultima epoca romana, e la prima epoca barbarica incredibile, c'era stata la guerra godica, stermini, quindi la popolazione italiana si era abbattuta di 3 milioni di abitanti, erano 2 milioni di abitanti, quindi pochissimi. La vita era estremamente risicata, e tra l'altro non è che avessero un'abilità particolare nella coltivazione dei gambi, quindi la fame era una cosa piuttosto sentita. E le culture erano quelle minime, alcune cose che a noi sembrano banali, che esistono, sono discorrenti, per noi non esistevano, cioè le patate, per esempio i pomodori, gli agrumi in senso generale. Esisteva cose, esisteva qui la cultura abbastanza risicata della vite, e l'altra cultura importante, ma fino a un certo punto del figo, perché i figli naturalmente hanno una grossa qualità alimentare. Pochissimo bestiame, e peraltro il bestiame era tenuto molto in considerazione, perché bisognava giustamente lavorarci. E conseguentemente, però, nello stesso tempo, succede un altro fenomeno molto importante, che è proprio perché la popolazione si rarifà, come dire, l'elemento uomo diventa più importante. E che succede da questo punto di vista? Succede una cosa molto semplice. Una, libera, come dire, l'affrancamento della schiavitù. Cioè, mano a mano che l'uomo diventa sempre più raro come merce, perché è una merce, in fondo, nell'epoca romana era una merce, ma mano a mano che diventa sempre più raro è sempre più prezioso. Quindi, fame, bestiame, tutto quello che vuoi, ma nello stesso tempo succede quest'altro fenomeno. Cioè, un fenomeno per cui in questa zona si realizza a mano a mano un concetto migliore e più grande di libertà. L'altra cosa che qui non succede, e ci spingiamo in epoca franca, i processi di infiotamento comuni a tutta Europa nell'area ex-bizantina non avvengono. Questo è abbastanza importante per 10.000 motivi che adesso non siamo tutti a raccontare perché annoieremo. No, annoieremo. Però significa una cosa molto importante che l'area soggetta all'area degli ex-domini bizantini rispetto a quelli degli ex-domini longobardi sono aree del tutto diverse, hanno usi, costumi e abitudini del tutto diverse. Per esempio, un esempio tra tutti che è importante, nell'area bizantina la gente, la gente comune, cioè anche quello che era rimasto dei romani, cioè l'operazione d'Octona, è abile ad adoperare le armi. Dal dove nell'area invece non gobarda, i lavigni rimasti residuati non potrebbero adoperare le armi. E quindi abbiamo una tradizione armata nella nostra zona che non esiste nella zona spoletana, per esempio. Cioè il comune di Spoleto, quando verrà, tra qualche secolo, non avrà la stessa abitudine alle armi che avrà invece la produzione arnese che era stata soggetta piuttosto al dominio bizantino. E questo segna una cosa particolarmente importante. L'altra cosa che ci colpisce è l'insistenza di toponimi bizantini, di culti, di santi, e quindi una differenziazione rispetto all'altra area che è di grandissima importanza. Lo vedremo poi quando visiteremo il luogo dei piedi. Però già da qui, già da questo posto, da dove siamo noi in questo momento, abbiamo una demarcazione fra due, o se le dire, civiltà. Che poi a mano a mano si ricomporrà, certi, in epoca più vicina a noi. L'altro aspetto che invece è importante, ma questo che lo tratteremo in modo successivo, è la presenza del grande monachesimo, che non è soltanto in presenza spirituale, ma in presenza soprattutto, direi, economica, finanziaria, e addirittura militare. Ti ringrazio. Grazie, grazie. Adesso torniamo indietro. Tra l'altro, è veramente tanto carino questo posto. È delizioso, Bruno. No, non solo è delizioso, ma ha degli elementi, edilizi medievali, che sono relativamente importanti. Per esempio le torri. Allora, per quanto riguarda le torri, noi dobbiamo sempre stare nel concetto che dicevamo prima. Cioè, noi abbiamo una situazione per cui, nell'atto medioevo, già lo accennavamo la volta precedente, abbiamo una grande presenza di guerra da corsa, come si chiama, cioè di scorrerie da queste parti, soprattutto per l'opera degli arabi. Ti ami conto che gli arabi distrusse la pazzia di Farfa, quindi figura di come... E ti ripeto, stavano accampati, si hanno liberato... Che è qua sotto. Che è una zona... Esatto, che per cui era una pista d'occhio rispetto a qui. E conseguentemente, certo, le popolazioni in qualche modo dovevano, come dire, tutelarsi. Quindi, dovevano costruire una serie di presidi abbastanza importanti. Un altro ne vedremo successivamente quando visiteremo Santa Potenziana, che la dottore di Santa Potenziana che vedremo, non la dovrei soltanto campanare, ma la dovrei anche l'avvistamento. D'accordo? Benissimo, grazie Bruno, grazie delle tue informazioni, sempre molto, molto interessanti. Grazie.